Una bella realtà tra quelli operanti nel territorio posto al nord dell'Etna è quella dei custodi delle vigne dell'Etna. Custodire vuol dire preservare il territorio, mantenere le tradizioni e rispettare la persona. Da questi valori e dall'amore verso una terra meravigliosa come quella etnea, dove la vita è stata portata dall'uomo più di duemila anni fa, nascono i vini dei custodi, frutto della generosità del caloroso suolo vulcanico e della sua mineralità, del freddo della montagna e del sole di Sicilia. Poi una volta ai piedi del vulcano vale la pena anche salirci, pertanto proseguendo per lingua glossa, prendendo la statale 120, si può fare tappa per salire ai crateri sommitali, raggiungere piano provenzana, ma qui l'uso della bici, ove si voglia usarla come mezzo, diventa altresì difficoltoso, dati i forti dislivelli. Si può fare, ma è una salita da scalatori veri. In ogni caso ci sono diverse realtà che organizzano escursioni per raggiungere la sommità accompagnati da guide vulcanologiche.